Eccoci, canalizzazione nel suo pensiero, di lui, di lei, dell'altro, dell'altra, chi lo sa, oppure vostra, scegliete voi. Allora, l'incipit è ciò che mi trattiene, è l'incipit che mi avete dato voi, me lo avete scritto, la persona che ha fatto richiesta di questa canalizzazione nello specifico, selezioniamo le nostre 9 carte e andiamo a vedere cos'è che la o lo trattiene. Allora, 6 carte, 7, 8 e 9. Canalizzazione, facciamo una sera all'interattivo, una sera alla canalizzazione, come ci pare? Iniziamo, cos'è che mi trattiene? Io, sono io che mi sto trattenendo, da quanto tempo? E devo fare sempre più forza su me stesso, su me stessa, perché dentro di me c'è qualcosa che si agita ed è un qualcosa che io vorrei domare, controllare, non riesco, mi sta lacerando l'anima. E io non conosco questa voce, non la intendo, non è la voce dei miei desideri, delle mie passioni, delle mie pulsioni, io non so cosa stia succedendo, è come se la mia vita si frapponesse tra me e quello che voglio raggiungere, non me ne va più una giusta, non riesco più a fare quello che desidero e quello che un tempo facevo con molta serenità, con molta tranquillità. A volte penso di stare invecchiando, forse, non lo so, è depressione, è come se una voce, questo grillo parlante fastidioso, si fosse messo lì sulla spalla e all'orecchio mi dice se stai sbagliando, stai sbagliando, stai sbagliando. Allora a volte penso a te e magari immagino te che sei lì a mandarmi le tue maledizioni, sì dico maledizioni perché hai ragione, hai ragione ad avercela con me, però che vuoi? Io sono fatta così, sono fatto così, ho voluto riprendermi la mia libertà e allora credo che magari mi hai fatto qualcosa. Sì, a volte credo che non riesco più a fare come mi pare perché tu stai sempre a pensare a me. Io vorrei poter andare nella direzione che ho scelto e poi all'improvviso, quando lì sono un passo da poter raggiungere quel qualcosa che voglio, vengo trascinato indietro. C'è una forza che mi porta via con sé e mi impedisce di concludere ciò che con tanta fatica cerco di creare. Perché tu lo sai, io sono tipo da appostamento, io la prendo alla larga, io comincio con il corteggiamento sottile, quello molto cerebrale, poi però divento romantico e passionale, faccio vedere di essere attento. Sì, lo so, è una strategia, ma d'altronde che vuoi? Su dieci che ci provi, con cui ci provi, poi una ci casca alla fine. In fondo tu mi conosci, parliamoci chiaro. Noi siamo molto simili, tu dirai di no, tu dirai di essere innamorata, ma non lo so, può darsi. Ciò che mi trattiene in questo momento, come ti ho detto, non è nulla se non qualcosa contro la mia volontà. Io mi sento trattenuto, io mi sento bloccato. Noi siamo identici. Quando io sono stato con te, sono stata con te e tu con me, eravamo tutti e due impegnati. Non ci siamo promessi nulla. E poi tu ti sei innamorato, ti sei innamorata. Io non volevo innamorarmi, non mi sono innamorato. Non mi sono innamorato di te, non mi sono innamorato di nessuno. Io non ho bisogno di nessuno. Se io scelgo qualcuno è solo perché in quel momento voglio passare una serata tranquilla, una giornata tranquilla, un periodo tranquillo. Sì, vabbè, è vero, poi alla fine si fa sempre come voglio io, perché altrimenti mi allontano, ma cosa vuoi che sia, bisogna pure avere un po' il pugno duro nella vita, altrimenti non si decide mai nulla. E poi sei arrivata a te, con la tua dolcezza, la tua fantasia, i tuoi sogni, la tua creatività, il tuo vorer cambiare le persone. Sì, perché non ammetterei mai, però tu lo sapevi come io in realtà sono, come ero. E mi hai preso così, convinta di poter resistere, convinta di poter farcela con me, e poi alla fine hai provato a cambiarmi. Non sei la prima, non sei l'ultima, sei sicuramente la più accanita. Hai provato in tutti i modi, lo so che l'hai fatto con il cuore, ci mancherebbe. Ma il problema è che io non voglio cambiare. Io in questo momento non riesco più a fare quello che prima facevo con indifferenza. E questa, se ti può far piacere, è l'unica cosa di cui ti puoi vantare. E io però non ne sono affatto felice, quindi, ostinato, continuerò a cercare di recuperare le mie abitudini. Io non voglio sentire quello che la mia mente mi propone, giorno dopo giorno, questo maledetto ticchettio, peggio di una cufene, che è lì a ricordarmi continuamente le tue ultime parole. Tanto la pagherai. Tanto anche a te faranno quello che tu stai facendo a me. Io ti ho amata e tu non mi hai capita. Io ti ho amato e tu non mi hai capito. Tanto dovrai tornare e quando tornerai io non ti vorrò più. Te lo confesso, io non sto pensando di tornare. Però mi dà fastidio che tu mi abbia detto questa cosa. Questo imperativo, questa sorta di minaccia. E forse è questo che a volte mi fa titubare e mi fa pensare che effettivamente tu abbia la capacità di potermi influenzare. Poi tu a queste cose credi, lo so che ci credi, lo so che leggi gli oroscopi, lo so che ti piacciono queste cose, che ne so che cosa puoi avermi fatto. Certo è che la mia vita è cambiata e non per volontà mia. Io vorrei poter essere libero, poter tornare libero come ero prima. Non ho mai avuto nessun senso di colpa, anche perché io ho sempre agito nel qui e nell'ora. Distinto. E cosa c'è di male nel cercare di appagare i propri istinti e soprattutto poi non siamo bambini, siamo adulti, siamo vaccinati e quando io ho provato con te e tu tranquillamente sei stata con me? Mi vorresti dire adesso che già all'epoca avevi sentito del tuo cuore dei sentimenti sublimi e che vedevi in me l'uomo della tua vita? Ma non lo posso credere. E se magari sentiro la cosa del genere è comunque sbagliato. Non hai capito la mia di natura, quindi comunque ti sei ingannata. Non sono io che ho ingannato te. In questo momento cos'è che mi trattiene dal venirti a cercare? L'orgoglio. L'orgoglio. Quanto mi trattiene. E il problema è che però non posso smettere di pensarti, ma non perché lo voglia fare. Perché non esci fuori dalla mia testa. E mi stai rovinando la vita. Mi la stai rovinando ogni volta che tento di approcciare qualcuna, qualcuno poi alla fine rivedo la tua faccia che mi minaccia. E questa è una cosa che non posso perdonarti. Di cosa mi dovrei rendere conto? Che è colpa mia. Che avrei dovuto avere un altro atteggiamento. Che avrei dovuto quantomeno chiederti scusa invece di riderti in faccia quando mi hai confessato i sentimenti. Sono una brutta persona. È quello che mi hai detto. Ma probabilmente lo sono. E allora perché non mi dimentichi? Perché non smetti di focalizzarti? Perché non la smetti di pensare a me? Ciò che mi trattiene. Io stesso. Io sto cercando di trattenermi. Sto cercando di evitare il contatto. Io sto cercando di assecondare quella mano invisibile che credo venga da te e che mi attrae comunque nella tua direzione. Io non cederò. Anche se lo devo dire. La mia vita non è più quella di prima.